Questo giardino di Alessandro Turco è anche un po' mio, perché io col pensiero spesso quando sono a Ferrara ci torno a passeggiare, sta diventando sempre più bello, sempre più teatro degli esperimenti tuoi, ma anche una dimensione di accoglienza e di sospensione, di epochè, di meditazione, perché l'equilibrio e l'armonia con cui sono armonizzati e contestualizzati le pietre, i solchi dei viali, le delimitazioni degli spazi, gli alberi e come dialogano fra loro le cose nel giardino. Ecco, il giardino, non dimentichiamacelo, è la metafora del Paradeisos, Paradeisos è il paradiso, è in greco giardino, il mito del giardino è il mito di tutto il rinascimento, perché era la ripetizione, la ripetizione della professione delle origini del giardino terrestre, creato fresco, fresco dalle mani di Dio, il primo che è uscito dalle sue mani. Ecco cosa c'è dietro il mito del giardino, il giardino è il sogno di rifare l'ordine primigeno, da cui poi c'è stato il disordine, perché anche questo giardino è minacciato dal disordine, perché se tu non lo coltivi, non stai attento, primo il fuoco lo minaccia sempre, è il fuoco, è il nemico numero uno dell'ordine degli uomini, è il nemico della memoria, perché è il nemico dei libri, che sono di carta e brucia le biblioteche, ma è il nemico della vita in generale, ma il fuoco è anche purificatore, siamo sempre lì, poi ogni cosa ha un aspetto doppio e duplice, ma qui bisogna sempre stare con lancia in resta a tenere quest'ordine di armonia nel giardino, ecco, perché la natura tende a riappropriarsene, è da imporre il suo ordine, che è altro dall'ideale che invece la mente umana ha, la mente umana che è a imitazione e a somiglianza di Dio, l'umano è a imitazione e a somiglianza del divino, ecco, e allora qui si entra in un rapporto dialettico fra come è divina la natura e come è divino l'uomo, e come secondo la Bibbia l'uomo è stato messo come signore del giardino e della natura. Due casate ci sono già divino.